Le due sorelle sono entrambe ricoverate, perché, ed è qui non posso entrare in ulteriori particolari, sono state ritenute necessariamente oggetto necessità di ricovera appropriatamente, quindi sono nel nostro ospedale e quindi capisco benissimo il dolore, la sofferenza, ma capisco anche che organizzare un percorso del genere, quando si poteva, come domiciliati, quindi i cittadini di questa città chiede l'aiuto, conosciamo benissimo la sensibilità, devo dire la presenza e la disponibilità del nostro sindaco, del sindaco di questa città, degli assessori, ma di cittadini di questa città, la solidarietà che nasce spontanea tra il nostro ospedale, la città stessa e i cittadini, ovunque residenti della nostra città. Avremmo trovato il modo, sicuramente su richiesta del sindaco, delle istituzioni locali, avremmo trovato il modo di garantire a questa nostra concittadina la possibilità di rientrare, la possibilità evidentemente di essere curata, ovviamente nel rispetto delle norme che in questo momento ci sono e che non possono essere derogate. Costruita così questa vicenda invece assume evidentemente connotati, scusateci, perdonatemi, nel rispetto del dolore profondamente diversi, vi leggiamo evidentemente un modo per farci trovare di fronte al fatto compiuto, per usare terminologie sicuramente non giuridiche, ma facilmente comprensibili a chi ci ascolta ed è per questo che, lo devo dire con dolore, ma perché non possa essere che di esempio, noi non possiamo ammettere che, non l'abbiamo fatto personalmente, lo dico come ospedale, come esempio morale, etico, essere quando si ha bisogno di aiuto, ma non si può essere di pericolo per gli altri. Quindi un qualcosa è chiedere aiuto e noi siamo sempre per rispondere positivamente a questo, altro è quando nel chiedere aiuto si espone a un rischio ingiusto, non giustificato, gli altri cittadini, gli altri colleghi. È un viaggio che mi auguro sia avvenuto nelle piene condizioni, evidentemente la normativa, parlo dal punto di vista igienico, sanitario e ovviamente del rischio infettivo, non lo so, quindi non voglio entrare su questo aspetto, io comunque ho inoltrato alla procura di questa città una querela, una denuncia per questo che è accaduto, chiedendo che la procura prenda immediatamente provvedimenti, valuti la situazione e agisca di conseguenza, sia un monito, sia un monito a tutti. Noi ci siamo, ma ci siamo in un modo ben diverso da quello che abbiamo vissuto oggi. Il nostro ospedale è sempre aperto, in particolar modo per i cittadini di questa città, in particolar modo per questa città a cui siamo legati in maniera assoluta, però non possiamo ammettere di avere sorprese che hanno esposto l'ospedale a un rischio. Dobbiamo avere il tempo, quando affrontiamo problematiche nuove, di poterle correttamente affrontare. Se ci troviamo in qualche modo in funzione di sorpresa, potremmo avere dei rischi che fortunatamente oggi non abbiamo avuto, e che l'ospedale è pronto anche a questo. L'abbiamo costruito per essere pronti anche a questo, però non sfruttiamolo in questo modo, e soprattutto non mettiamolo in condizioni di soffrire, come oggi è accaduto. Ed è per questo che abbiamo reagito con qualcosa che avremmo preferito, ve lo dico sinceramente, mai fare, mai pensare. Non può esistere una denuncia contro chi ha bisogno, non può esistere, ma deve esistere anche un monito, che questo non riaccada. Grazie. Grazie.